Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Calcio, basket, atletiche e judo nel sommario di questa sera. Iniziamo con la Lucchese, quattro giorni di vacanza dunque per i rossoneri di Nanu Galderisi che passeranno il Natale in famiglia. Da sabato pomeriggio riprenderà la preparazione in vista del delicato match interno dell'Epifania contro il Propiacenza. Ovviamente il campo a gennaio ci sono quattro partite importanti per il futuro della squadra e la relativa classifica, una classifica che è migliorata ma non ancora ottimale. Nell'ordine gli impegni di gennaio saranno Propiacenza e Gubbio in casa, Sant'Arcangelo e Savona in trasferta. Ma soprattutto a tenere destra l'attenzione degli sportivi sarà subito dopo Natale, quando poi riprenderà la preparazione, sarà il mercato, la sessione invernale, ricordiamo si aprirà lunedì 5 gennaio. Ma non è da escludere che il direttore generale Galli possa sparare qualche colpo ancora prima. Come del resto lo stesso Galli ha avuto modo di ribadire domenica scorsa il termine della gara di Reggio Emilia. In queste ore si era fatto il nome di Davide Luppi, attaccante del Moden ed ex Correggese, ma in realtà il suo approdo a Lucca non pare così fattibile. Già dal fine settimana, con la ripresa degli allenamenti, Galli tornerà al pienamento operativo e quindi aspettiamo le prime mosse che serviranno a ridisegnare e almeno si spera a rinforzare la lucchese. Magari sul tema del mercato torneremo nelle edizioni del TG9 Sport di domani perché cominciano ad emergere i primi sussurri, i primi nomi anche di un certo rilievo. Intanto oggi giornata di provvedimenti del giudice sportivo che ha deliberato in merito alle partite dell'ultimo fine settimana. Vediamo allora con la tabella due giornate sono state inflitte al portiere a Prea dell'Ancona. Per una giornata squalificati Piana e Di Bari della Pistoiese, Mallus e Di Ceglie dell'Ancona, Maccarrone dell'Aquila, Chirico dell'Ascoli, Gidai del Forlì, Boron del Grosseto, Mancoso e Marchioni del Gubbio, Fioretti della Spal, Bisoli e Olivi del Sant'Arcangelo, Colombo del Tutto Cuoio. Inoltre le ammende 3.000 euro al Tutto Cuoio, 2.500 a L'Ancona, 1.000 euro al Teramo. Per quanto riguarda la Lucchese, come abbiamo visto, non ci sono squalificati, però il capitano Matteo Nolè, ammonito domenica a Reggio Emilia, è salito a quota tre cartellini gialli e quindi è andato in diffida. Passiamo al basket e torniamo ad occuparci del Gesam Gas Lemura, la sconfitta di Venezia, che naturalmente nulla pregiudica nella lotta a playoff in un campionato, peraltro, molto equilibrato, a parte Ragusa e lo stesso Schio che sta incontrando qualche difficoltà, il servizio. Nulla da fare, ma che peccato, il Gesam Gas Lemura lotta sgomita, prova a sbaragliare il parquet, ma alla fine deve arrendersi, sprecando anche qualcosa, sul campo dell'umana Reier Venezia, quasi una sorta delle mura che fu. Tra le Venete ci sono infatti le ex murine Bagnara, Dotto e Ruziscova. Avvio sofferto delle bianco-rosse di Coccia e Diamanti, che faticano in un poco nella prima parte del match. La fase difensiva non funziona come nelle migliori giornate e Venezia ne approfitta. In realtà le Venete, che hanno un eccellente McCallum, 23 punti, provano ad allungare, vantaggio massimo di 10 punti, ma lucca la capabilità necessaria di restare aggrappata alla partita. Così, dopo l'intervallo lungo, Lemura sale di tono e gioca finalmente una buona pallacanestro, riuscendo anche ad andare avanti nel punteggio. Il 50-56, a pochi minuti dalla sirena, illude sul colpaccio, ma un parziale di 11-0 rilancia le ambizioni veneziane. Le padroni di casa allungano fino a 72-64, punteggio col quale si giudicano la gara, e due punti in classifica che permettono di salire al quarto posto in compagnia del San Martino di Lupari. Lucca rimane invece a quota 14, con solo due lunghezze sul nono posto, che testimonia l'assoluta incertezza di un torneo forse mai così equilibrato. Ora la lunga sosta natalizia, alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, trasserta sul campo della Lavezzini Parma, sperando che nella calza della Befana ci siano due punti. Cora basket, ma a livello giovanile, storico risultato dell'under 17 del centro minibasket Lucca. Per la prima volta infatti una formazione giovanile conquista l'accesso alla seconda fase del campionato di eccellenza, dove militano le migliori squadre della regione. Un traguardo prestigioso, quello conquistato e raggiunto dai ragazzi di coccia referendario, che si sono qualificati insieme al Don Bosco Livorno e alla Mensana Siena e che nella seconda fase troveranno altri squadroni del calibro di Pistoia, Usempoli e Olimpia Legnaia-Firenze. L'atletica si è svolta a Bangile, in provincia di Pistoia, la classica gara prenatalizia scarpinata della solidarietà di 11 km e 300 metri. La vittoria è andata al marocchino Khalid Gau, che vedete nella foto, che ha preceduto a Scania Andreotti e Andrea Marsili della Lucca Marathon, autore di una bella rimonta nella salita finale. Il gruppo podistico Parco Alpi Apuane ha piazzato Roberto Gianni all'ottavo posto e Nicola Matteucci al nono. Ennesima onorificenza per Stefano Gori come ambasciatore dello sport. Il forte atleta non vedente di Ponte Amoriano è stato premiato dai sindaci dei comuni di Sestriere e di Ulz per lo straordinario impegno profuso sia nello sport che nel sociale. Al termine i ragazzi, dopo aver ricevuto gli autografi, hanno dedicato a Stefano alcune poesie. Voglio ricordarvi che Gori sarà ospite domattina alle 8.30 della puntata pre-natalizia di Buongiorno con Noi. Prestigioso riconoscimento conferito al Judo Club Fornaci. Vediamo. 50 anni e spiccioli, ma portarli in modo a dir poco splendido. Parliamo del Judo Club Fornaci, insignito dal CONI nazionale con la stella d'argento al merito sportivo. Del resto, solo nelle ultime stagioni, per non andare troppo indietro nel tempo, la società fornacina si è fregiata di un titolo europeo e di uno italiano. Mica scherzi. Ma al di là di questo, va sottolineato anche l'impegno sociale del Judo Club, con centinaia e centinaia di giovani che trovano sfogo ed applicazione nella pratica sportiva, sfuggendo così ad altre pericolose tentazioni, come ha avuto modo di ribadire anche il sindaco di Barga, Marco Bonini. Ivano Carlesi è da tempo immemorabile l'anima della società e non può che palesare la propria indiscutibile soddisfazione. Direi che è un importante obiettivo che abbiamo centrato, non per nostra volontà, ma chiaramente da parte del CONI nazionale che ha voluto premiarci in questi 52 anni di attività che abbiamo fatto, anche perché questa medaglia d'argento fa seguito a quella del 1984 di bronzo e quindi ci rimarrebbe solo quella d'oro. Chissà, nelle prossime nozze di diamante forse ci toccherà anche quella, speriamo. Pomeriggio intenso all'ex cinema LMI, momento più toccante, l'applicazione della stella d'argento sul labaro della società per mano del presidente provinciale del CONI Enrico Bertuccelli sul mandato di quello nazionale Giovanni Malagò. L'esecuzione del lino nazionale col maestro Massimo Salotti al pianoforte e la voce di Marco Pierucci a fare da sottofondo. Del resto non sono molte le società della provincia di Lucca che possono fregiarsi di aver ricevuto tale prestigioso riconoscimento. Ecco perché ci sentiamo di chiudere affermando lunga vita al Judo Club Fornaci. E ospite di Buongiorno con noi, questa mattina Evano Carlese ha annunciato che dalla prossima primavera sarà inaugurata a Fornaci di Barga una foresteria che ospiterà atleti di interesse olimpico per gli stage di allenamento. Possiamo dunque ben dire che il Judo Club Fornaci diventa a tutti gli effetti uno dei punti di riferimento della disciplina del Judo a livello regionale e nazionale. E con questo si chiude la pagina sportiva di questa sera. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, RTG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera. Grazie a tutti.